Gianluigi Paragone Allora, noi siamo partiti dal discorso dell'esercito guardandolo rispetto all'assembramento Provo a ipotizzare un'ipotesi in cui c'è un assembramento e polizia locale, forze dell'ordine, esercito Si debbono mettere a fare che cosa? A controllare i documenti, a controllare che chi si ribella alla mascherina Poi a quale penalizzazione vada incontro, non lo so Mentre accade questo, nelle stesse città, negli stessi centri cittadini Delle bande di teppisti, di criminali si fronteggiano in una escalation incredibile di violenza Oggi si parla di Daspo Willy in considerazione alla violenza che quel povero ragazzo aveva subito E quei due signori, signorotti, teppisti, criminali che erano a zonzo per le città E non dovevano stare a zonzo Sono l'esempio di quello che sta accadendo C'è un escalation di violenza Io due settimane fa sono stato testimone di una rissa tra due bande E non c'è forza dell'ordine, non c'è esercito, non ci sono pattuglie, non si vede nulla Allora voglio capire se tra i diritti c'è anche il diritto sacrosanto a vivere in città In cui non devi assistere platialmente allo scontro tra bande che si vogliono impossessare delle nostre città Allora io l'esercito lo vorrei lì, lo vorrei vedere lì Non vederlo impiegato per dividere le persone Quello dovrebbe già un po' più attenere ad un senso culturale Ma è molto più urgente per le forze dell'ordine andare lì Provo a mettere un ulteriore elemento di analisi Quando un giorno, magari perché finirà la cassa integrazione Perché arriveranno le cartelle esattoriali E allora la gente si arrabbierà perché è affamata di diritti Dal diritto al lavoro al diritto di resistere al pressing bancario, al pressing fiscale Perché è in sofferenza e non riesce più ad andare avanti Cosa facciamo? Schiereremo l'esercito per evitare le manifestazioni di protesta Per difendere magari il diritto al lavoro? Ecco attenzione perché qui andiamo incontro ad un impazzimento generale Dove l'unica cosa a cui servono le forze dell'ordine è presidiare il controllo Da dei teppisti criminali che si prendono a botte, a calci e a cinghiate davanti a cittadini per bene E gente come Willy che tenta di rompere quella violenza viene ammazzata E lì mi domando dov'è lo Stato? Dov'è la legalità? Lì ci vuole l'esercito